Nel quartiere collaterrato di Teramo sono circa 800 gli sfollati delle palazzine Ater a restare ancora fuori casa dopo sei anni dall'ultimo sisma. Appartamenti abbandonati, preda di vandali e ladri che ormai hanno saccheggiato quelle povere cose rimaste dentro. La ricostruzione qui non è mai partita ed è una prima denuncia. La seconda riguarda la mancata manutenzione di quelle case che non sono state sgomberate e dove i residenti continuano a vivere lamentando servizi igienici e infissi rotti da anni. Una situazione veramente desolante. L'Ater di Teramo, tra un annuncio e l'altro su nuovi alloggi da assegnare, fa sapere di essere gravemente sottorganico e che la responsabilità è piuttosto da attribuire alla burocrazia infernale per la ricostruzione pubblica. La percezione che si ha parlando con i residenti del quartiere è la perdita di speranza, soprattutto negli anziani che non credono più di poter trascorrere gli ultimi anni della loro vita in quelle case tanto amate. Sono case forse dei centi popolari che c'è tutto questo lassismo, questa indifferenza, perché dopo sette anni, con cinque commissari nazionali diversi, con tre commissari Ater, siamo ovviamente al punto di partenza. Scoraggiati è poco. Ci si lamenta e ci si chiede il distacco tra la politica e il cittadino. Ci sta questa autonoma sistemazione che ammorbidisce un pochettino. Ma lei mi dice che tante sue cose personali sono state rubate. Ormai il mio portone, ad esempio, è sfondato. Quasi tutti gli appartamenti sono stati visitati dai ladri e quindi veramente è una situazione indescrivibile. Poi questa non cite. Noi sono veramente cinque anni che ad ogni insediamento sembra che si è risolto tutto e ovviamente è la vigilia dei voto. Anche chi abita le case popolari, le case Ater, lamenta la mancanza di manutenzione da decenni. Quelli che ancora stanno nelle case, ovviamente molte volte la manutenzione viene disattesa. Come piccolo comitato riceviamo praticamente telefonate soprattutto dagli anziani, dagli anziani che ci chiedono se riusciranno a rientrare nelle loro case prima della dipartita. Ma c'è un dramma nel dramma per gli sfollati di collaterrato ed è il continuo ritardo con cui viene erogato il contributo di autonoma sistemazione. La regione paga dopo mesi e il comune di Teramo è dovuto intervenire per anticipare le somme. Oggi siamo alle mensilità di novembre e dicembre 2022.